ultimo video del 2023 vorrei condividere con voi tre delle cose che ho imparato quest'anno uno frasi come lascia stare tanto non puoi farci niente sono profezie che si auto avverano cioè sono proprio queste frasi alla fine il motivo principale per cui davvero non puoi farci niente per cui ignoriamole due non è che perché lo dice il new york times allora è vero anzi ci sono ottime probabilità che proprio perché lo dice il new york times si tratti di propaganda sulla stampa italiana mi sono già espressa abbastanza tre quando voi prendete una posizione e scegliete da che parte stare vi schierate magari anche con grande dolore con grande conflitto e poi le persone iniziano a cercare di farvi credere che invece siete dalla parte sbagliata voi fatevi una sola domanda sto dalla parte dei più deboli se la risposta è sì allora siete dalla parte giusta della storia in questo 2023 abbiamo iniziato la nostra piccola rivoluzione nel 2024 faremo un gran casino ma sempre restiamo umani